Continua annualmente l'affiliazione tra lo Sport Club Nissa di Natale Ferrande e l'Ellas Verona. Anche ieri, ai campetti di calcio lombardo, si sono ritrovati i ragazzi dello Sport Club Nissa, per l'occasione vestiti in divisa con i completi della società scaligera, che fu campione d'Italia nel 1985. Per l'occasione si sono ritrovati i tecnici nisseni con i tecnici del Verona, motivo di confronto e crescita professionale tra di loro, ma anche per i ragazzi dello Sport Club Nissa, per far conoscere loro i metodi di lavoro di una squadra di Serie A e per conoscere le basi del professionismo, augurandoci che tra di loro possa uscire un campioncino in erba, che possa giocare tra le file dell'Ellas Verona, così come fece negli anni 90 l'attaccante nisseno Fabrizio Cammarata. Lo Sport Club Nissa ha questo gemellaggio, questa affiliazione con l'Ellas Verona, e sembra un piacere ogni anno accogliere alcuni rappresentanti degli allenatori, e quindi dei colleghi che lavorano a Verona con l'Ellas. È un momento formativo e importante soprattutto per i nostri ragazzi, ma anche per noi tecnici perché è un tipo di confronto che ci fa crescere sulle metodologie di lavoro. È un'affiliazione che è nata grazie all'aiuto del nostro responsabile, che è riuscito a trovare appunto questa società per permettere non solo a noi di imparare cose nuove, ma anche ai ragazzi e agli allenatori del Nissa di conoscere comunque il mondo del professionismo.